Qui ci troviamo all'ICJV, Centro Internazionale di Genetica e Biotecnologie di Trieste, che è un centro internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite. Questo è Corona Minus, questo è SARS-CoV-2. Da un paziente qui in regione, noi possiamo andare a misurare quanto virus è presente contando le placche. Chiaramente il sequenziamento è una tecnologia che ci permette di leggere l'informazione genetica del virus e quindi di capire se ci sono dei cambiamenti nel tempo dell'informazione genetica. Perché se cambia questa struttura cambia anche la capacità del virus. Esattamente, ci possono essere anche modifiche nella sua capacità di trasmettersi e anche di essere più o meno neutralizzato dalla risposta immunitaria generata da un vaccino. In Friuli Venezia Giulia avete evidenze di varianti strane che girano? Fino adesso non abbiamo evidenze di variante inglese, circolante in regione, ma semplicemente di virus lievemente mutato. Livemente mutato, ma non della variante inglese e neanche della variante sudoafricano-brasiliana.